Cari morti e feriti, vi invito a violenza e sofferenza. Dio disse ci sia violenza, e così avvenne. Dio vide che era cosa buona, sofferenza. Faccio appello a Gaforza. Atroce violenza. Ripeto, ma corrà, che la violenza risolve i conflitti. Conquistare la Turchia con la violenza. Tragiche conseguenze. Tragiche conseguenze. Tragiche. 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 Tragiche.